La qualità parte dalla panchina, la prossima Lega Pro certamente entusiasmante sul campo per il blasone delle protagoniste accrescerà il suo appile anche grazie ai nomi di chi sarà chiamato ad allenare. La C dei Big One ha già preso forma e sicuramente regalerà emozioni al campionato. È innegabile che almeno tre dei top player in campo alzeranno la media dell'età ma al contempo caricheranno di emozioni la contesa. Partiamo proprio dall'Avellino che schiera il non più giovane ma super vincente Piero Braglia. Accanto a lui il boemo più famoso del mondo, Zenec Zeman, che tornerà in panchina per guidare il Foggia verso i suoi sogni del passato. Innegabile il fascino che porterà il suo ritorno in terra pugliese. Se soddicasi per Walter Novellino, l'ex Biancoverde sarà il trainer della Juve Stabia supportato da uno staff tutto irpino. Scelte non casuali, i tre hanno deciso di fermarsi in piazze calde ma che conoscono a mena dito ed hanno tutti gran voglia di riscatto a partire proprio dal tecnico di Grosseto. Ma non si ferma qui la lista. Il Monopoli nella serata di giovedì ha ufficializzato mister Colombo dopo l'addio di Giuseppe Scienza. Il Bari ha scelto Mignani dopo aver salutato Uteri. Filippi resterà al timone del Palermo per un altro anno, mentre il Messina, restando in Sicilia, potrebbe assicurarsi le prestazioni di Ezio Lino Capuano. Il Catania, a meno di stravolgimenti, dovrebbe confermare Baldini. Insomma, i nomi ci sono, lo spettacolo è assicurato e può cominciare. All'inizio del campionato lo show si sposterà in panchina.